Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Damiano Fedeli. In Fepili per lavori ci sono 4 km di coda fra Montelupo-Fiorentino e La Strassigna in direzione Firenze, rallentamenti in direzione Livorno. In A1 in direzione Bologna 4 km di coda per traffico congestionato fra Incisa-Reggello e Firenze-Impruneta, svincolo che ricordiamo è chiuso per lavori fino al 31 agosto. Coda per traffico intenso a Firenze-Sud in uscita da Bologna, sempre in A1 in direzione Bologna tra il Bivio-Querce e Sasso-Marconi 3 km di coda per veicolo fermo in galleria. In A11 per lavori alle barriere di sicurezza nelle notti di oggi e domani, dalle 22 alle 6 sarà chiusa la barriera di Pisa-Nordine, entrata e in uscita. A Firenze, in piazza Cavalieri di Vittorio-Veneto, restringimento di carreggiata causa incidente, coda in aumento. Muoversi in Toscana, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!